Anche per noi è umiliante, non è che è una cosa bella andare in televisione e dire i fatti propri, anche noi abbiamo una dignità. E' sotto sfratto il cosiddetto condominio solidale di Giulianova. L'esperienza nacque sei anni fa, quando 11 persone, compresi bambini, anziani e malati gravi, ricevettero un alloggio popolare. Io non voglio la guerra, perché la guerra non ci porta da nessuna parte, però vorrei solamente che lui si mettesse una mano sulla coscienza, perché noi veramente siamo disperati. Lui ci ha preso come degli approfittatori, invece noi siamo semplicemente delle persone bisognose, noi per mangiare andiamo alla Caritas, insomma la gente ci aiuta in questo modo. Perché ci vuole mettere Giulianova contro? Per fortuna che non siamo soli, in quanto il gruppo anarchici ci è vicino. Inizialmente gli alloggi sarebbero dovuti essere sgomberati entro fine ottobre, poi entro il 10 novembre, ma in quella data non è accaduto nulla. Per legge uno sfratto deve essere comunicato agli inquilini con almeno sei mesi di preavviso, ma la delibera è giunta al condominio solidale solo due mesi fa. E buferra sul sindaco Costantini, secondo cui l'emergenza abitativa non può essere prorogata. Noi abbiamo fatto presente che l'emergenza abitativa deve essere un'emergenza e non può diventare una consuetudine. Sono sei anni che queste persone sono all'interno di quegli alloggi. Ai nostri microfoni però assicura agli inquilini che non saranno sfrattati fino a fine anno. Abbiamo detto che fino a fine anno noi non daremo problematica. Il Comune ha deciso di intraprendere comunque delle iniziative a favore di queste persone con l'Unione dei Comuni che va a elargire una somma, c'è il reddito cittadinanza. Queste sono persone che a fine mese comunque riescono ad arrivare a delle cifre di 600, 700, 800 euro e non possiamo più pensare, noi gli abbiamo dato tempo tre mesi, non possiamo più pensare che diventi una consuetudine non rintegrarsi all'interno della società. Noi non ce lo possiamo permettere. Secondo gli inquilini però il sindaco non conosce davvero le loro condizioni. Quando quindi esprime giudizi sul loro reddito lo fa mentendo. Sa che siamo cittadini italiani? La reddito di cittadinanza dal primo novembre non mi pagano più. L'hanno tolto. L'Inps non ti risponda, non dicono perché. Calf non ti dicono niente. Quindi se a lei lo sfrattassero oggi che farebbe? Niente, devo andare avanti a casa qua perché ecco tutto quel capitale che ce l'ho in tasca.